Il Presidente della Regione Crocetta insieme allo zoccolo duro dell'EPD siciliano del nuovo Corso Raciti apre la possibilità di un'intesa sulle province con NCD di Alfano in Sicilia maggioranza ancora sotto in aula che intanto interrompe i lavori per la visita del Presidente Napolitano a Catania Un aeroporto sulla piana di Milazzo è l'audace proposta di sei comitati territoriali del Messinese che spingono per la realizzazione di un nuovo scalo sulla fascia costiera della Sicilia orientale L'aeroporto avrebbe, dicono, importanza strategica anche sul piano commerciale La scuola pubblica non può più attendere importanti incontro questa mattina presso la bottega dei Sapori della Legalità di Libera a Palermo per parlare della necessità impellente dell'istruzione pubblica non solo siciliana con un appello inviato alle forze politiche perché si presti maggiore attenzione nei confronti di un sistema cruciale del nostro paese Gentili amici e telespettatori ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di CTS Notizie Come avete appreso dai nostri titoli si aprono spiragli in Sicilia per un governo di larghe intese sulla falsa riga di quello nazionale Rosario Crocetta incassa l'ennesima sconfitta in aula sul tema del riordino delle province una serie di sconfitte legate ai mancati numeri all'interno della maggioranza che adesso potrebbe allargarsi a NCD di Angelino Alfano Prove tecniche di larghe intese al governo regionale E senza dubbio questo il principale segnale è venuto fuori dall'ennesima seduta d'aula sulla riforma delle province che ha visto ancora una volta il governo di Rosario Crocetta impietosamente battuto dai numeri Anche sull'articolo 4 del testo governativo la maggioranza è andata sotto affogata da quegli stessi franchi tiratori che la scorsa settimana avevano inanellato tre esecuzioni di fila impallinando la norma in sala d'ercole In particolare a far le spese dell'attuale squilibrio di forze in Parlamento sono state le quote rosa nelle assemblee dei liberi consorsi che dovrebbero soppiantare le province Troppo tempo è andato perduto sull'impasse d'aula nella discussione delle province con Crocetta ostaggio dei suoi stessi alleati Il governatore ormai ci è arrivato bisogna cambiare lo status quo e dunque cercare alleanze dietro le linee nemiche In questo senso va analizzata l'apertura di governo e PD al gruppo NCD a Lars Prima d'Antonello Cracolici e poi addirittura dal neosegretario regionale Raciti sono giunte parole distensive mirate ad una possibile intesa con gli alfaniani Nulla di ufficiale ancora ma Crocetta appare stia seriamente pensando alla faccenda che riequilibrerebbe le forze in aula Un'intesa che avrebbe non solo pro ma anche i suoi contro La maggioranza andrebbe sì a guadagnare qualche deputato nel centro-destra ma perderebbe l'intera forza grillina da sempre favorevole all'abolizione degli enti intermedi I tempi si prospettano ancora lunghi e Crocetta avrebbe dalla sua un paio di nomine dirigenziali da offrire in cambio di una riproposizione alla siciliana delle larghe intese nazionali Intanto oggi sarà tutto fermo a Palazzo dei Normanni a causa dell'assenza di Presidente della Regione, d'Assemblea e sverati deputati richiamati dalla visita catanese del capo dello Stato Giorgio Napolitano E la giornata etnea del Presidente della Repubblica si è dimostrata piuttosto densa di impegni dopo l'incontro in municipio con la firma sul patto per il sud-est al quale erano presenti oltre al sindaco di Catania Enzo Bianco anche il Presidente della Regione Rosario Crocetta e quello dell'Arse Giovanni Ardizzone Il capo dello Stato ha discusso di politiche per il meridione chiedendo non solo attenzione alle istituzioni nazionali che si dimostri capacità iniziativa, aspetti essenziali ha dichiarato perché non c'è la politica nazionale che da sola possa risolvere i problemi del mezzogiorno Questa, ha proseguito Napolitano parlando di Catania è una città che si muove e questo è importante A scandire la visita di Giorgio Napolitano è stata anche la protesta dei dipendenti catanesi della Micron scesi in strada per protestare contro il piano di esuberi annunciato dall'azienda leader del settore dei semiconduttori e per chiedere aiuto proprio al Presidente della Repubblica Partiamo con la pagina di Cronaca Si è costituito al carcere Paiarelli di Palermo l'avvocato Alfredo Tortorici illegale ricercato dai carabinieri nell'ambito dell'indagine che ieri ha apportato a 27 arresti per il tentativo di una truffa finanziaria Tortorici è accusato appunto di truffa, riciclaggio e associazione per delinquere Secondo l'accusa sarebbe uno dei promotori della truffa da 40 milioni di euro al Monte dei Paschirisiena sventata dagli inquirenti Ci spostiamo ad Agrigento dove un incendio di origine dolosa ha distrutto lo stabilimento Maracaibo di San Leone appunto in provincia di Agrigento i vigili del fuoco hanno impiegato quasi quattro ore per domare le fiamme altissime sul posto anche la polizia che indaga sulla caduta e non esclude l'ipotesi che si tratti di racket delle estorsioni in servizio Un film visto e rivisto gli incendi di stabilimenti balneari lungo il viale Reddune a San Leone località balneare di Agrigento e quasi sempre alla vigilia dell'avvio della stagione balneare l'11 marzo 2010 venne dato fuoco al Papete Beach il 3 maggio 2008 toccò alla Camora il 14 aprile sempre dello stesso anno all'Holiday Park senza contare i due incendi che distrussero in periodi diversi il 3 dicembre 2011 e il 22 luglio 2012 il Barahonda adesso nel mirino forse del racket finisce il Maracaibo locale alla moda uno dei preferiti nel periodo estivo della Movida Agrigentina aperto 24 ore su 24 un incendio sulla cui matrice sono in corso indagini ha letteralmente mandato in fumo il locale bar, pizzeria, ristorante e pub le fiamme sono state favorite alimentate dal legno della struttura l'inferno è esplosso intorno alle 21 di ieri l'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che si sono accorti del fungo invernale giallo e rosso che si è sprigionato oltre la pedana in legno nel boschetto verso il chiosco costruito sulla spiaggia a pochi metri dal mare come tanti altri che insistono lungo il viale delle dune sul posto sono intervenuti in forza i vigili del fuoco del comando provinciale di Villasetta per avere ragione delle fiamme sono state nagessare diverse ore di duro lavoro e ben tre autobotti se la matrice fosse dolosa l'anonimo o gli anonimi piromani hanno agito senza attendere la complicità della notte in un orario nel quale i locali del viale delle dune sono particolarmente affollati soprattutto ieri giornata di festa per San Gerlando patrono di Agrigento al Maracaibo hanno lavorato non solo i vigili del fuoco ma anche i poliziotti della squadra volanti alla ricerca della causa che ha provocato il disastro restiamo purtroppo su questo argomento per parlarvi di una tragedia sfiorata a Trapani una mamma e i suoi due bimbi hanno rischiato di rimanere vittime di un incendio divampato nella loro abitazione in uno stabile del centro storico le fiamme causate probabilmente da un cortocircuito si sono rapidamente propagate all'interno dell'appartamento solo l'intervento della polizia ha evitato il peggio e tratto in salvo la donna e i due bambini sul posto anche i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza lo stesso immobile ed emergono nuovi risvolti dall'inchiesta sull'omicidio di Maria Concetta Velardi la vedova 59 assassinata il 7 gennaio scorso nel cimitero di Catania colpi di pietra una coppia di romeni 36 anni lui 35 lei sono stati iscritti nel registro degli indagati sale così a 5 il numero delle persone inserite nelle fascicoli aperto dalla procura etnea che come atto dovuto aveva già indagato il figlio della vittima altre due persone un giovane e un anziano che conoscevano la donna che nel giorno del delitto sarebbero stati in quella zona la procura di Catania ha precisato che anche per la coppia di romeni l'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto sottolineando che si è molto lontani dal fatto che possa esserci un'accusa diretta il macabro omicidio dunque resta tutto ora un giallo avvolto nel mistero ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria il nostro rientro proseguiremo con la pagina di Cronaca restate con noi il profumo della terra di Salemi i sapori dei cibi della migliore tradizione siciliana la freschezza dei prodotti utilizzati l'attenzione per un amorevole servizio dedicato ai clienti sono gli ingredienti basilari del rapporto tra la nostra cucina e i nostri ospiti sapori antichi e gusti moderni ristorante le botteghe del sindaco a Salemi in via Giovanni Amendola 187 telefono 0924 64 921 il caffè Lullè di Luigi Rampolla in via Giacomo Cusmano 28 a Palermo ha saputo riscoprire i sapori della tradizione nel suo nuovo ed elegante punto di ristorazione prodotti genuini ampia scelta di dolci biscotti torte di tutti i tipi e per tutti i gusti pasticcerie e rosticceria mignon e non dimentichiamo a pranzo la gastronomia ogni giorno piatti espressi a prezzi anticrisi caffè Lullè i migliori prezzi della città eccellente qualità a prezzi giusti per la gente giusta caffè Lullè in via Giacomo Cusmano 28 a Palermo MDS Serramenti ditta leader in Sicilia nel settore serramenti e non solo infissi per interni ed esterni porte per interni di diverse essenze e modelli porte blindate a corazzatura top class zanzariere orizzontali e verticali e cancellature di ogni genere tutti i prodotti di fabbrica sono personalizzabili secondo le esigenze dei clienti tutti coloro che ordineranno gli infissi alla MDS potranno usufruire di uno sconto speciale del 25% sulle porte per interno MDS Serramenti chiedete un preventivo o una visita gratuita di un nostro responsabile volente Vialdi presenta il nuovo materasso Memory One progettato per garantire il massimo del comfort formato da una lastra in tecnopolimero bugnato ed una in memory foam completamente avvolgente il tutto in un comodo guscio sfoderabile e lavabile in pratica è come avere due materassi in uno un concentrato di tecnologia soli 249 euro per la versione matrimoniale e 199 euro per quella singola pagabili a rate anche senza busta paga Vialdi senza chiacchiere solo fatti concreti Bentornati in studio parliamo di emergenza in migrazione quasi 800 migranti soccorsi nelle ultime 24 ore nel canale di Sicilia gli interventi sono stati effettuati in diversi momenti dalla marina militare e dalla guardia costiera lo fa sapere attraverso una nota alla marina sono andate avanti senza sosta per tutta la notte scorsa le operazioni di soccorso ai migranti provenienti dalle coste africane da parte dei mezzi aeronavali impegnati nell'operazione mare Nostrum nello stretto di Sicilia scrive appunto la marina la nave anfibia San Giusto è intervenuta per soccorrere due gommoni entrambi con 97 persone a bordo senza dotazioni di sicurezza personali la fregata grecale invece ha soccorso 100 migranti a bordo di un natante nella stessa zona di Mara sud-est di Lampedusa nelle ultime 24 ore le navi della marina militare hanno soccorso in totale 596 migranti a bordo di 6 natanti e le operazioni conclude la nota si è aggiunta la moto vedetta 202 della capitaneria di Porto che ha imbarcato 200 persone a bordo di un gommone a sud di Pozzano e tre arresti per detenzione spaccio di stupefacenti sono stati effettuati dai carabinieri a Terra Nova in provincia di Messina tra i arrestati anche due palermitani i dettagli altri presunti spacciatori sono finiti nella rete delle forze dell'ordine a distanza di 24 ore dall'arresto da parte della polizia di un 39enne di Brolo che all'interno di un casolare aveva allestito una sera artigianale per la coltivazione di marioana nelle scorse ore i carabinieri della stazione Sant'Agda di Militello hanno tratto in arresto a Torrenova tre giovani con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti si tratta di Matteo Ragusa Giuseppe Amorello 22 anni di Palermo e Fausto Castelli 34 anni di Torrenova i carabinieri sono riusciti a risalire a due episodi di spaccio in due momenti distinti il tutto ha avuto inizio da un controllo da parte dei militari nei confronti dei due palermitani sospettati di detenere un'elevata dosi di sostanze stupefacenti pur non avendo rivenuto durante la perquisizione personale veicolare alcuna sostanza stupefacente i carabinieri sono riusciti ad accertare la presenza di due episodi di spaccio avvenuti in breve tempo il primo da parte dei palermitani a favore del 34 anni di Torrenova trovato in possesso di 68 grammi di hashish e il secondo sempre dai medesimi a favore di un noto assuntore di sostanze stupefacenti del luogo che a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 7 grammi di hashish e segnalato quindi alla prefettura di messina per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale per i due palermitani invece e per Fausto Castelli è scattato l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio i due palermitani sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma in attese della convalide dell'arresto mentre il 34enne Torrenovese su disposizione della procura della Repubblica di Patti è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari Torniamo a Catania ancora per un fatto di cronaca una coppia di romeni di 32 e 25 anni è stata fermata dai carabinieri con l'accusa di aver adescato su una chat per single nel dicembre dello scorso anno un giovane catanese che avrebbero poi attirato in casa per minacciarlo con un coltello e farsi consegnare le carte di credito e i codici PIN la vittima sotto la minaccia dell'arma fu costretta per circa due ore ad aspettare la donna che si recò a uno sportello bancomat per prelevare 700 euro in contanti Torniamo a Palermo dove giro di vita da parte del comune contro l'abusivismo di quattro immobili abusivi sequestrati e sette persone denunciate il bilancio dell'ultima operazione condotta dal nucleo di polizia edilizia dei vigili urbani nell'ambito dei controlli del territorio e tutela dell'ambiente predisposti dal comandante Vincenzo Messine e coordinati dal commissario Enrico Farina i primi tre immobili sono stati sequestrati in via Altofonte in via Dante e in via Asmara con quattro persone denunciate per mancanza della concessione edilizia nulla osta del genio civile Nel caso del quarto immobile in via Falso Miele precedentemente sequestrato per il quale è stata riscontrata la violazione dei sigilli invece sono state denunciate tre persone due proprietari e un operai Nuovo aeroporto nella piana di Milaz sulla fascia costiera messinese questa è la proposta di sei comitati territoriali di Messina che chiedono a gran voce la realizzazione di uno scalo messinese che risulterebbe di importanza strategica per tutta la Sicilia i sei comitati territoriali per l'aeroporto nella piana di Milaz continuano l'impegno per favorire la realizzazione di un aeroscalo a servizio del comprensorio così come sancito dal piano regionale trasporti che prevede un aeroporto nell'area costiera del messinese collegato con l'autostrada Messina-Palermo nei giorni scorsi si è svolta a Milaz una riunione operativa alla quale hanno partecipato l'ingegnere Carmelo Di Bartola coordinatore dei comitati territoriali per l'aeroporto nella piana di Milaz esponenti del comitato territoriale di Barcellona del centro studi Civis di Milaz e qualificati esponenti della società civile milazzese in apertura Gianfilippo Muscianisi presidente del Civis che dal 2007 con proficua collaborazione a fianco ai comitati territoriali ha voluto evidenziare le nuove opportunità offerte dal reinsediamento del Consiglio Comunale di Milazzo l'ingegnere Di Bartola è intervenuto per fare un quadro generale delle ultime iniziative dei comitati rendendo noto che lo scorso 17 febbraio sono state inviate al presidente del Consiglio Comunale di Barcellona e ai presidenti delle commissioni consigliari competenti richieste di convocazioni informali dei rispettivi organismi che consentano ai comitati territoriali di esprimere il loro punto di vista e le loro osservazioni sullo stato di avanzamento del progetto lo stesso Di Bartola ha riferito che entro qualche settimana saranno resi noti i primi nominativi dei componenti di un nuovo comitato tecnico scientifico che sarà di supporto alle attività dei comitati e dal sogno da parte di Milazzo e Barcellona Pozza di Gotte di avere un proprio aeroporto ci passiamo invece a Messina più di 300 milioni di euro a disposizione del polo universitario appunto di Messina approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo il bilancio di previsione 2014 il documento è già stato approvato dal Senato Accademico e dalle Collegio dei Revisori dei Conti si è svolta questa mattina a Messina nella Sala Senato dell'Ateneo una conferenza stampa durante la quale sono stati illustrati gli elementi che hanno permesso all'Università di Messina di adottare il bilancio unico di previsione per il 2014 approvato venerdì scorso all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione all'incontro ha preso parte il Rettore Professor Pietro Navarra che ha evidenziato che l'ammontare complessivo è di 335 milioni di euro 80 dei quali sono gestiti dai centri autonomi di spesa si è il primo bilancio di questa nuova amministrazione e come tale abbiamo voluto dare dei segnali importanti su quello che crediamo sia o possa essere il prossimo futuro dell'Università internazionalizzazione ricerca e servizi agli studenti il Pro Rettore alla gestione delle risorse finanziarie Professor Michele Limosani dal canto suo ha ricordato che i progetti strategici erano già incardinati nella programmazione dell'Ateneo ma che sono stati rafforzati l'auspicio è quello di trovare nuove risorse già nel corso dell'anno il bilancio unico ha detto il Direttore Generale Professore Francesco De Domenico significa anche un cambio di mentalità e quest'anno saremo chiamati ad un'ulteriore sfida con il passaggio al regime di contabilità economico-patrimoniale a partire dal 1 gennaio 2015 questa amministrazione diciamo cerca di fare il suo meglio per quanto riguarda il rispetto dei tempi in questo caso nonostante il ministero abbia prorogato i termini al 1 gennaio 2015 abbiamo ritenuto avendo avviato un processo importante di organizzazione di partire col 1 gennaio col bilancio unico è ovviamente un segno di efficienza e ci consente peraltro lo strumento del bilancio unico un maggiore controllo della spesa e dei flussi finanziari e questo consentirà di rendere più efficienti i processi sia decisionali sia attuativi di quelle che sono le politiche gestionali dell'università proseguiamo parlando ancora di istruzione perché si chiede impegno e fatti concreti per il futuro della scuola pubblica il coro unanime sollevato dalla terza assemblea nazionale sul tema in programma nel capologo siciliano venerdì a Palazzo delle Aquile una situazione quella dell'istruzione pubblica italiana che desta non poche preoccupazioni la scuola pubblica non può più attendere questa la sollecitazione portata avanti da un gruppo di persone sensibili alle tematiche della scuola pronte a promuovere la terza edizione dell'assemblea nazionale che anche quest'anno si terrà a Palermo venerdì 28 febbraio a Palazzo delle Aquile obiettivo dell'iniziativa è di raccogliere e rilanciare al mondo politico sociale e culturale le istanze di una scuola che non può attendere oltre il sistema scolastico vive attualmente in condizioni di estrema difficoltà derivanti dai numerosi e continui tagli ma anche da una progressiva disfunzione nella formazione dei docenti ruolo fondamentale per la crescita della classe dirigente del domani la priorità della scuola oggi è diventata una di quegli obiettivi fondamentali che non dobbiamo perdere di vista è stato ripetuto tante volte ma oggi è necessario prendere una posizione e questa posizione sicuramente nasce dal fatto che tutto il mondo della scuola docenti personaliata e dirigenti scolastici sollevano diverse questioni diverse problematiche che attendono risposte immediate e non soltanto perché mancano le risorse possono essere eluse possono essere posticipate un intervento straordinario per ripulire parte dello spartitraffico di Viale Michelangelo Alta è stato effettuato in mattinata da un piccolo gruppo di operai della GESIP chiamati a raccolta dal deputato di Forza Italia Vincenzo Figuccia gli operai ha spiegato Figuccia hanno lavorato oggi nonostante siano in regime di cassa integrazione guardiamo giorno di pulizie straordinarie in Viale Michelangelo dove un piccolo gruppo di operai della GESIP allertati dal deputato di Forza Italia Vincenzo Figuccia sono intervenuti per sgomberare un'area invasa dai rifiuti e in completo stato di abbandono l'intervento è stato effettuato nello spartitraffico che divide le due corsie di Viale Michelangelo all'altezza del mercato del CEP dopo la via Brunelleschi Figuccia ha voluto ringraziare gli operai della GESIP che si sono adoperati per ripulire l'area da rifiuti e sterpaie nonostante pur essendo in cassa integrazione come ha ricordato lo stesso deputato Forzino non abbiano percepito l'assegno che gli spetterebbe proprio in qualità di cassa integrati Operai che in realtà purtroppo però non ricevono stipendio da oltre un mese Operai che sono in cassa integrazione e che quindi pur non rocevendo lo stipendio sono qui a prestare la loro opera a servizio del territorio un territorio che amano un territorio nel quale lavorano per il quale si impegnano pur non prendendo questo assegno di cassa integrazione certo noi ovviamente faremo di tutto perché questo non accada più abbiamo scritto all'Inps al prefetto per comprendere quali sono le ragioni della mancata erogazione della cassa integrazione speriamo che presto questo problema venga risolto perché come si vede quando c'è l'impegno degli operatori si riescono ad ottenere dei buoni risultati e quello che ovviamente è l'obiettivo è quello di offrire un servizio in questo caso di pulizia alla città ci vediamo ancora una piccola pausa restate con noi tantillo colori di tantillo salvatore leader da 40 anni nel mondo del colore vi dà il benvenuto nel suo showroom ed ecco le interessantissime offerte riservate ai nostri clienti caldaia ferroli divatec kilowatt 24 489 euro scalda bagno 80 litri di un boiler 79 euro scalda salviette bianco altezza 80 centimetri 44 euro e 90 una latta di lavabile più rullo tela retina e pennello euro 29 e 90 radiatore fresso flusso in alluminio 9 euro 6 tubi di silicone Bostik 9 euro e 90 stucco 20 kg 8 euro e 50 un cotone delle migliori marche 44 euro e 50 ogni 5 latte di pittura tra il latte di stucco o fissativo in omaggio tantillo colori a palermo in via mendola 35 zona stazione centrale qualità ed esperienza al vostro servizio c'è un'attività per far crescere la sicilia serve che regione e comuni funzionino e per farli funzionare serve che la classe dirigente partecipi all'attività di queste istituzioni e le controlli perché ciò accada serve un'informazione investigativa completa coraggiosa per questo c'è QDS.it quotidiano di Sicilia la voce della classe dirigente siciliana contro l'inefficienza della burocrazia abbonati serve anche il tuo impegno per far crescere la Sicilia comunica il codice 202 in atto sul palermo 98 non si in appoggio anche la ve global security international gli specialisti della vigilanza e della sicurezza personale altamente qualificato pronto intervento controllo attività commerciali con tecnologie innovative global security international servizi di scorta radio e telecamere telesoccorso 24 ore su 24 vigilanza notturna e diurna vigilanza fissa punzonature trasporto valori global security international consorziato Sicurgem contattaci per la tua sicurezza rieccoci in studio dai fondali siciliani emergono nuovi reperti archeologici che testimoniano quanto ancora possa raccontare il mare che circonda l'isola sono stati mostrati questa mattina ai alunni delle scuole palermitane presenti presso l'arsenale della Marina Regia di Palermo i due ultimi ritrovamenti della soprintendenza del mare guardiamo il mare siciliano continua a raccontare dopo anni e anni tra dominazioni innovazioni e purtroppo anche deturpazioni presentati questa mattina due reperti ultimamente riscoperti sui fondali siciliani dalla soprintendenza del mare davanti le coste trapanesi il tutto rientra nel progetto dal titolo il mare continua a raccontare ascoltalo promosso dalla stessa soprintendenza in concerto con il comune di Palermo e il WWF indirizzato ai circa 900 alunni di 14 scuole siciliane il progetto intende promuovere la riscoperta di un forte legame con il mare concepito non solo come ambiente paesaggistico ma anche come risorsa storica culturale ed economica si tratta di due ritrovamenti abbastanza interessanti uno è un torso in marmo purtroppo molto frammentario mancante della testa e della parte inferiore del corpo però appartenente a una tipologia di una scultura molto nota in epoca romana e soprattutto che si richiama un originale greco di Prassitele la cosiddetta afrodite pudica è fatto in marmo lunense quindi il marmo di Carrara molto pregiato ottima fattura da un punto di vista scultorio e dimostra che la città di Marsale è una città molto ricca in epoca antoniniana cioè nel secondo secolo dopo Cristo quindi epoca romana imperiale che ci faceva in mare in quel posto davanti Capo Boeo probabilmente si tratta di materiale che fu buttato in mare dopo i saccheggi vandalici alla fine dell'impero quindi nel quinto secolo dopo Cristo questo rinvenimento insieme alle altri materiali che abbiamo già visto in mare ci autorizza a rafforzare l'idea di creare un parco archeologico sommerso proprio nella zona davanti l'Ilibeo siamo in chiusura ma come sempre vi invito a restare con noi per tutti gli ultimissimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo grazie per averci seguito arrivederci a Treviso la prima visita ufficiale per il neopresidente del consiglio incontrati gli insegnanti e gli studenti di una scuola media Renzi si è trasferito poi al museo di Santa Caterina in seguito si recherà in comune dopo un colloquio con il sindaco il premier dovrebbe incontrare anche gli operai della Electrolux e altri lavoratori in difficoltà e invece a Catania il presidente napolitano il capo dello stato parteciperà questa mattina ad un incontro con gli imprenditori siciliani nel pomeriggio visita lo stabilimento della STM nel distretto industriale Etneo agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione l'ex capo dei vigili urbani di Roma Angelo Giuliani secondo la procura avrebbe fatto ottenere irregolarmente un appalto alla SEA che si occupava della pulizia delle strade dopo ogni incidente arrestati anche tre rappresentanti della società è morto Alfredo Famoso il tassista di 68 anni aggredito domenica a Milano dopo una lite in strada questa mattina all'interrogatorio dell'aggressore la procura di Milano sta modificando il capo di imputazione in omicidio volontario non sarà presente all'udienza in Cassazione Raniero Busco ex fidanzato di Simonetta Cesaroni uccisa nel 1990 e unico imputato del delitto oggi la corte decide se confermare l'assoluzione per non aver commesso il fatto accordata in appello in primo grado Busco era stato condannato a 24 anni di carcere due gommoni con a bordo 197 migranti sono stati soccorsi nella notte dalla marina militare a sud-est di Lampedusa quasi 600 le persone tratte in salvo nelle ultime 24 ore nel canale di Sicilia Ucraina verso il nuovo corso dopo la cacciata di Yanukovic e Mosca invia i carri armati nella russofona Crimea nella penisola e distanza la flotta russa del Mar Nero e la popolazione manifesta da giorni per la secessione da Kiev Grazie a tutti